ciao ragazze ciao ragazzi sono Silvia sicuramente in qualche reel che io ho pubblicato sul mio canale mi avrete visto comunque oggi ho deciso di fare un video indossando il capo perché ritengo che questa canotta sia molto più più bella farla vedere indossata perché sul piano da lavoro non renderebbe molto anche perché come potete vedere il punto è molto traforato allora oggi realizzeremo questa canotta insieme passo passo vi farò vedere come realizzarla ovvero ci saranno due pannelli da realizzare il davanti e il dietro e poi dovremmo fare semplicemente le cuciture laterali lasciare lo spazio per il giro manica e chiudere le spalle tutto qui e poi rifinirla vedete con maglie basse e poi dei pippiolini sul giro collo giro manica e il fondo ok la canottina è questa ritengo sia molto sfiziosa perché va bene a parte che io ho scelto questo tipo di cotone led si chiama che ha delle paillette poi delle sfumature che luccicano quindi è anche bella da usare di sera per andare che ne so per un aperitivo o in pizzeria quello che preferite di più se poi durante il video comunque vi dirò come come fare se desiderate fare un copricostume con questo tipo di punto col punto strega chiaramente lo farete molto più lungo e non avrete bisogno di mettere nulla sotto perché chiaramente avrete il bikini o il costume intero se invece come me deciderete di indossarla per uscire come vedete io ho messo un top sotto potete mettere anche un top a fascia oppure un top che vi copra completamente però senza l'incrocio come questa mia magliettina questa è la mia decisione personale però chiaramente il consiglio è quello di metterci sotto qualcosa perché il punto è davvero molto traforato però a mio parere sfiziosissimo e insomma particolare ecco quando quando le mie amiche mi hanno visto con questa con questa canotta mi hanno fatto un sacco di complimenti e niente immagino che li facciano anche a voi quando la realizzerete e se vorrete realizzarla chiaramente allora questo è quanto e ci vediamo durante il tutorial ciao allora per questo progetto ci servirà questo cotone se volete acquistarlo se come dire se c'è ancora perché è andato a ruba e sul sito un filo di passione ed vedete si chiama led perché a questi spero che si veda bene in video a parte che ci sono queste micro paillettes e poi vedete anche sfumato un verde sfumato vedete tutte queste questi piccoli diciamo queste piccole sfumature che sono anche brillanti diciamo brillano e niente quindi io userò questo cotone voi chiaramente siete liberissimi di usare qualsiasi tipo di colore e tipo di cotone allora io ho deciso che lo lavorerò a doppio quindi prenderò due gomitoli insieme e li lavorerò insieme perché voglio un po più di consistenza questo tipo di filato va lavorato con un numero 3 o 4 di uncinetto di ferri io in questo caso lo lavorerò con un numero 5 proprio perché lo lavorerò a doppio allora detto questo iniziamo la lavorazione io ho già messo a doppio i miei i miei due gomitoli e iniziamo il punto strega per chi ha seguito il video sul punto strega su come farlo si ricorderà chi non l'ha visto può andare a guardarlo nella diciamo nella mia nella mia playlist quindi è un multiplo di due quindi noi facciamo il nostro cappietto più una catenella e iniziamo per prima cosa dobbiamo prendere lavoreremo a pannello quindi ci sarà un davanti e un dietro prendiamo la misura come vi ho detto per altri lavori che che abbiamo visto prenderete la misura la circonferenza più ampia del vostro corpo se la misura più ampia è il seno prenderete la misura del seno se invece è i fianchi prenderete la misura dei fianchi poi dipende anche quanto la volete allunga questa questa maglietta io diciamo la farò sulla vita quindi mi baserò su una via di mezzo tra i fianchi e il seno ecco allora iniziamo allunghiamo blocchiamo due fili riprendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassa di nuovo scusate dato che è a due fili bisogna stare un po più attenti allora vedete è così che dobbiamo iniziare allora io farò la lunghezza del che mi servirà per il primo pannello chiaramente se la misura diciamo che vi interessa è 100 dato che lavoriamo a pannello dovremo fare la metà quindi il primo pannello sarà di 50 centimetri e via dicendo chiaramente se 120 sarà 60 e diciamo se poi ottenete un numero con la virgola diciamo così arrotondate magari non so vi viene 50,5 chiaramente fate 51 ecco chiaramente se avete dei dei dubbi o volete qualche qualche consiglio relativo alla misura da fare me lo potete scrivere scrivere nei commenti allora ci vediamo alla fine ho montato 18 anelli quindi un multiplo di due e la mia larghezza è 52 centimetri ho deciso comunque di farla ampia anche un po sui fianchi quindi 50 centimetri la metà diciamo dei miei fianchi e quindi ho fatto aggiunto quei due centimetri in più anche per ritrovarmi con il multiplo ed è lo stesso discorso che dovrete fare voi cioè una volta arrivata alla larghezza desiderata se vedete che contando gli anelli non sono un multiplo di due dovrete comunque aggiungere qualche altro anello per ottenere il multiplo ok detto questo vi faccio vedere come proseguire allora adesso noi chiaramente dobbiamo girare il lavoro per fare l'altro come dire l'altro giro quindi per il primo giro aggiungiamo altri tre anelli quindi 1 2 e 3 quindi questi tre anelli servono per poter girare il lavoro quindi ora contiamo 1 2 3 nel quarto ci chiudiamo nella maglia bassa con una maglia bassa adesso invece ne dovremmo fare due solo due anelli 1 e 2 quindi per il primo giro e tutti gli altri giri e tutti gli altri giri a seguire dovremo fare sempre 3 anelli mentre continuando il lavoro solo due quindi saltiamo due anelli 1 2 e ci chiudiamo nella maglia bassa con una maglia bassa allora di nuovo 1 e 2 salto due anelli mi chiudo nella maglia bassa con una maglia bassa continuiamo così per tutto il giro vi farò vedere di nuovo l'inizio del terzo giro e poi vi dirò come proseguire sono arrivata quasi alla fine del mio secondo giro e vi volevo far vedere come chiudere allora ho fatto i miei due anelli salto due anelli e chiudo se vi ricordate abbiamo fatto dopo il cappietto un'altra catenella e ci chiudiamo proprio in quella catenella con una maglia bassa ok ho finito il mio secondo giro adesso che cosa facciamo ancora una volta vi ricordate tre anelli per iniziare il lavoro 2 scusate mi ero decentrata e 3 giriamo il lavoro è in questo caso diciamo in questo terzo giro è tutti i giri a seguire salteremo soltanto un anello quindi ci chiudiamo subito nella maglia bassa adesso due anelli 1 guardate mi si sono incastrati tutti i fili 1 e 2 salto due anelli e mi chiudo nella maglia bassa con una maglia bassa vi faccio vedere ancora una volta 1 2 salto due anelli mi chiudo nella maglia bassa allora ragazzi da questo punto proseguirete voi con il lavoro perché ormai vi ho fatto vedere le diciamo le cose basilari per continuare quindi riepilogando al primo giro farete scusatemi nei giri successivi per iniziare vi alzerete con tre anelli e vi chiuderete salterete solo un anello e vi chiederete subito nella maglia bassa poi farete solo due anelli per alzarvi però salterete di due anelli e sempre così fino alla fine quindi ogni giro sarà così li alzate con tre anelli e saltate soltanto un anello poi proseguite con due anelli saltando sempre i classici due anelli ora quello che c'è da fare è continuare questo pannello fino ad arrivare all'altezza desiderata volete la magliettina la canottina che arrivi in vita prendete la misura potrà essere un 60 cm 60 cm 67 quello che è 70 se invece poi lo volete trasformare in una tunica lunga o anche un mini abito chiaramente proseguite sempre per la lunghezza desiderata io chiaramente quando arrivo all'altezza che interessa a me vi farò vedere quanti giri ho fatto sono arrivata al termine del mio pannello vedete è davvero molto carino è proprio d'effetto guardate bello allora chiaramente vi faccio vedere quanti giri ho fatto però è chiaro che questo dipende da voi è molto soggettivo perché potete fare più lungo più corto quindi non dovrete tener conto di quello che vi sto facendo vedere io però è giusto per farvi capire come poter contare allora si conta da questi nodi formati abbasso un po più la telecamera vedete questi questi nodi quindi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci ok allora io per portarmi avanti ho già fatto l'altro pannello adesso non dobbiamo far altro che unirli allora come li uniamo prendiamo i due i due lembi diciamo che è un tipo di cucitura non tradizionale diciamo così prendo un attimo l'ago perché come potete ben vedere non ci sono diciamo i margini ben definiti però noi troveremo il modo per ottenere una bella cucitura allora in questo caso prenderò soltanto un filo non ne prenderò due per non creare disastri diciamo così allora vedete io prendo uno dei nodi iniziali scusate non ero inquadrata faccio un nodino e dentro nell'altro nodo rientro di nuovo entro nell'asola e blocco allora cosa facciamo adesso andiamo direttamente nell'altro nodo entriamo nell'asola e chiudiamo di nuovo entriamo nell'altra scusate ho dato un colpo alla telecamera con l'ago chiaramente io sto facendo questo lavoro al rovescio anche se in realtà non c'è un vero e proprio dritto e rovescio e per farvi capire che fatta questa cucitura noi poi dovremo girare il lavoro così queste piccole diciamo cuciture le avremo dal rovescio allora ragazzi non dovete fare altro che continuare in questo modo entrate nei nodini ve lo faccio vedere un'altra volta entrate nel primo nodo entrate nel secondo rientrate io faccio difficoltà perché se vi ricordate vi ho detto che il mio filo ha delle piccole paillettes quindi quando le incontro mi si incastrano ok poi entrate nell'asolina e tirate continuate così fino chiaramente all'altezza del giro manica come individuare il giro manica semplicissimo allora questa è la chiusura quando ho finito il mio lavoro e questo è il filo che ho lasciato che poi mi servirà per cucire quindi tenete conto di questo dell'unione di queste due e con un centimetro contate vi potete prendere sia il giro manica da soli di una canotta che che vi sta bene che vi piace il giro manica e la prendete se no vi basate più o meno su una ventina di centimetri quindi prendete un marca punto segnatelo e quindi cucite fino a quel punto perché chiaramente noi dovremmo avere l'apertura del nostro giro manica allora ci vediamo alla chiusura di entrambi e poi vi farò vedere chiaramente sarà fatto nello stesso modo per la chiusura delle spalle e anche lì ci regoleremo insieme quanto dover chiudere per le spalle perché poi anche quello sarà molto soggettivo ho chiuso i lati della mia canotta vedete questo chiaramente è a rovescio ancora ok quindi ho lasciato i 20 cm per il giro manica e adesso chiuderemo le spalle io ho lasciato da entrambi i lati il filo di chiusura quindi penso che sia più che sufficiente allora per quanto riguarda la scollatura diciamo l'apertura per per la testa possiamo decidere semplicemente di lasciare anche delle piccole spalle spalline diciamo quindi chiudere l'inizio è un paio di nodi quindi solo questa parte come possiamo anche chiuderne tre o quattro di nodini e vedete avremo comunque una bella apertura per la testa quindi questo sta a voi deciderlo io chiuderò penso sicuramente tre anelli e quindi farò un mi verrà una spalla abbastanza larga non molto stretta però come vi dicevo prima questa è una cosa molto soggettiva dipende da voi io chiaramente avvicino un po la telecamera vi faccio vedere come prima come chiudere però è lo praticamente lo stesso modo di prima non cambia nulla allora diciamo un po di più ok allora entriamo nel nudino tiriamo bene i fili rientriamo rientro nella solina ok adesso entro nel primo nodo entro nel secondo rientro e faccio un bel nodo stretto di nuovo negli altri tirate sempre bene il filo deve essere abbastanza teso sono poi nella chiusura vi verrà lento e sembrerà brutto e non è quello che vogliamo ok adesso sì sicuramente chiuderò un altro un altro paio di vediamo un po o questo è l'ultimo o ne faccio un altro un attimo ok sì ci siamo allora vediamo un po questa sarebbe la larghezza della mia spalla e io ritengo che vada bene così farò la stessa cosa dall'altra parte quindi 1 1 2 e 3 e avrò questa bella apertura e diciamo questo bello scollo quindi per l'apertura della mia testa è molto ma molto più che è sufficiente allora io adesso chiudo anche l'altro lato e poi vi farò vedere come rifinire il tutto allora ho chiuso anche le mie spalle vedete vedete da un lato e dall'altro e chiaramente ho girato al dritto il mio lavoro allora questa è la canottina come potete vedere non si nota la differenza tra la chiusura e tutto il resto perché comunque abbiamo ripreso la linea delle nostre diciamo losanghe e quindi non si vede nulla allora chiaramente è da premettere che questa è una canotta che va messa sotto un toppino o comunque qualcosa che copra anche questo comunque è molto opzionale anche perché si usa come copricostume chi vorrà farlo più lungo è chiaro che non dovrà metterci nulla perché è un copricostume quindi al di sotto si vedrà il nostro bikini il nostro costume intero se invece la vogliamo usare come maglietta da mettere per uscire chiaramente se si vuole si potrà mettere al di sotto una magliettina una canotta in licra oppure appunto un toppino quindi perché come potete vedere è abbastanza trasparente è molto molto traforata allora come rifinire la nostra canottina ora ve lo faccio vedere io riprenderò sia il collo che le maniche allora partiamo scusatemi il giro manica perché non ha maniche allora partiamo dalla chiusura della spalla quindi rientriamo entriamo all'interno prendiamo il nostro filo e facciamo una catenella allora adesso noi andremo qui nelle nostre chiamiamole diciamo questi questi fili flottanti chiamiamoli così però ne prenderemo prenderemo solo la parte di sopra e faremo una due tre e nella quarta la quarta la quarta scusatemi la chiudiamo nell'unione delle nostre delle nostre losanghe allora e qui che cosa facciamo facciamo un pippiolino ci alziamo di una due e tre rientriamo vedete alla base di questi anelli e chiudiamo il tutto con una maglia bassissima vedete cosa ottenuto di nuovo prendiamo solo le prime due 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 tre e nella quarta cioè scusatevi è la quarta la chiudiamo nel punto basso di unione maglia bassa 1 2 3 entro qui alla base entro tra questi anelli e chiudo con una maglia bassissima di nuovo 1 2 3 e mi chiudo con una maglia bassa ve lo faccio vedere un'altra volta e poi potete proseguire da soli rientro alla base entrando in questi due anelli e chiudo con una maglia bassissima spero che si veda bene quello che ho fatto continuate così per tutto il giro e io poi vi farò vedere come ho completato e anche l'inizio del giro manica ho completato il giro del mio scollo vedete molto carino con tutti questi pippiolini abbiamo rifinito il nostro scollo adesso dovremmo fare la stessa cosa per il giro manica io ve lo faccio vedere ma è praticamente la stessa cosa che abbiamo fatto per il collo quindi entriamo alla base scusate un attimo sì ok allora entriamo alla base del nostro giro manica se riesco ad entrare ok no scusatemi un attimo come si dice in tv di solito il bello della diretta ok allora perfetto allora adesso stessa cosa 1 mi sto portando dietro anche il filo d'inizio la codina è 3 anzi è 4 nel punto basso 1 2 e 3 rientro alla base e mi chiudo con un punto bassissimo di nuovo 1 2 e 3 rientro alla base non fate caso a quel filo perché praticamente è la codina che mi sono portata dietro che chiaramente verrà tagliata vedete stessa cosa che abbiamo fatto per lo scollo quindi continuate così per tutto il giro manica per l'altro e poi faremo la stessa cosa sotto all'orlo non ve lo faccio vedere perché avete capito come procedere è sempre la stessa cosa anche qui entrate entrate alla base della cucitura e fate la stessissima cosa allora io finisco tutto ve la faccio vedere completata e niente tutto qui ci vediamo alla fine delle delle rifiniture ho concluso le mie rifiniture vedete anche al giro manica al collo e anche al fondo allora questa è la nostra canottina a me sembra molto molto carina spero che che anche voi siate dello stesso parere e quindi niente il tutorial è finito qui spero vi sia piaciuto spero che lo realizzerete anche voi e se lo farete mostratemi la foto del vostro la chiaramente se avete dei dubbi qualsiasi domanda potete chiedermelo nei commenti e cercherò di esservi di aiuto in qualsiasi modo quindi mettetemi un like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdervi nessun altro dei miei video ciao ragazzi a presto ciao